libera la bellezza dei tuoi capelli lunghi Garnieri crea il più goloso degli ultradolci la sua ricetta alla vaniglia si arricchisce con la polpa di papaya per districare e riparare fino alle punte i capelli lunghi sono setosi, pieni di vita, una delizia nuovo ultradolce vaniglia e polpa di papaya chi si prende cura di me? Garnier